Ciao mio caro amico aspirante, trader professionista e profittevole Oggi è venerdì 11 ottobre 2019 e lascio che ti mostri i trader profittevoli che ho fatto durante l'apertura pitusa sull'SP500 Bene, ieri abbiamo avuto una giornata a rialzo, come vedi, l'importante livello è questa linea con la loro magenta Poi durante la overnight session, sia l'Asia che l'Hondon session sono andati a rialzo Quindi in questa immensa gap up opening, io ho aspettato la prima occasione per unirmi al trend long C'era un punto in particolare, quest'ultimo pullback low era un punto debole Perché non so se si vede, qui c'è una linea viola sottile che è un punto di mezzo di qualche sezione pitusa fa Quindi secondo me questo week era comunque un debole pullback low overnight Con grosse possibilità che il mercato possa tornare a ribasso Il mio primo trade è stato aspettare una violenta rottura del massimo overnight E mettermi qua, in prossimità dei massimi Perché vedi questo rimbalzo, è appunto proprio su questa linea nera Questa linea nera è un punto di mezzo di diverse sezioni pitusa fa E quindi io sapevo che il mercato sarebbe rimbalzato da qua per andare a rialzo E metto 5 ordini di pendenti buy Il mercato me lo esegue e in meno di 20 secondi il mercato non faccio neanche in tempo a prendermi per un'altra screenshot Il mercato da qui a qui esco perché avevo messo il mio target fisso di 16 tick E niente, questo è il primo trade profittevole, mi ha portato, come vedete si vede meglio tutti questi big buy in balance Mi ha portato 1000 dollari precisi Bene, il secondo trade profittevole scatta di nuovo su un nuovo Rossuc long Praticamente questo era Rossuc long e questo è un altro Rossuc long Con 5 contratti, il mio stop loss era sotto il punto di mezzo che dava il precedente ingresso Il mio target era veramente su questo punto qua Il mercato cosa fa? Scendo a ribasso per intrappolare i sellers Ma poi, come vedi, il mercato all'apertura perché siamo in prossimità delle 4 L'apertura alle 4 e 1 della successiva seconda candela 30 minuti Il mercato subito va al rialzo e mi va a prendere il mio target o 5 contratti E in totale arrivo a 1565 dollari Caro amico, se anche te vuoi dare in questo modo fare anche meglio di me nel mercato dei future Delle azioni e delle azioni Alla schiena che lo sta adesso e mandami al link sotto a questo video Vi ti auguro, grazie, grossi e succosi profitti Ad ogni tua prossima sessione di trading Ciao da Almighty Ci vediamo lunedì Buon weekend